I cambiamenti climatici e la pandemia da Covid hanno spinto diversi stati ad una corsa all'accaparramento di beni essenziali per garantire l'alimentazione della popolazione. Secondo l'analisi di Nikkei Asia, su dati del Dipartimento Americano dell'Agricoltura, la Cina, entro la prima metà dell'annata Gradia 2022, avrà messo in magazzino il 60% del riso e il 51% di grano, con conseguenti forti aumenti dei prezzi in tutto il pianeta e carestie. Uno scenario che dovrebbe fare scattare un campanello d'allarme anche in Italia, in modo particolare per quanto riguarda le esportazioni. Le previsioni di stima di qualche mese fa si stanno confermando tali, quindi l'allerta che c'era sulle produzioni canadesi e nordamericane sono state confermate, quindi meno prodotto, meno grano a disposizione per l'export. Questo ha fatto sì di creare uno stato di attenzione e anche uno stato di preoccupazione per la mancanza di cereale. La Cina sta intervenendo in un modo un po' singolare, nel senso che loro hanno scorte di grano ancora per la loro domanda interna per un anno e mezzo. Nonostante questo stanno acquistando sul mercato. Si sta muovendo molto anche l'Algeria. Il nostro paese in questo momento, l'Italia non dà, ma anche l'Europa stessa non sta dando preoccupazione, ma sarebbe il caso secondo me di iniziare a guardarci. Mi aspetterei una manovra anche da parte di tutti i paesi europei di andare piano con l'esportazione. Le previsioni saranno che anche nella raccolta 2022 ci sarà sicuramente un aumento di prodotto a disposizione, ma con le scorte che siamo andati con gli stock mondiali veramente a livelli minimi, e non si riuscirà in un anno solamente di produzione o di superproduzione a recuperare le scorte. In tutto ciò, il grano ha raggiunto prezzi stellari, facendo segnare un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo del 2020. Grazie a tutti.